esempio di connessione RFID e XB il propeller è collegato con l'XB c'è l'alloggiamento per mettere un modulo GSM per poi fare la comunicazione tramite SMS il propeller utilizza i digital input output dell'XB per mandarli al ricevente che attiva e disattiva i LED in corrispondenza ai segnali del propeller adesso lo spegniamo così si vede meglio da questa parte c'è l'ID12 sensore RFID utilizzando un tag quando si avvicina se il segnale è corretto si accende un altro LED un quarto LED i segnali vengono trasmessi tramite l'XB di nuovo il propeller e in questo caso il tag viene mandato sul computer in questo caso e in questo caso Grazie.